pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa quindicesima domenica incontriamo la parabola del seminatore una parabola meravigliosa e importantissima al punto che il famoso biblista leon dufour disse che è la sintesi di tutto il vangelo potenza di dio ed è la sua parola da una parte con tutto il suo desiderio di parlare e trasformare il cuore dell'uomo e accoglienza difficile ma possibile dell'uomo dall'altra in questa parabola noi possiamo mettere in luce tre diverse sezioni la parabola in sé poi i discepoli che si avvicinano a gesù per chiederne spiegazione e la spiegazione noi cercheremo di mettere in particolare in luce un punto centrale della parabola che è il tema dell'ascolto al punto che come titolo potremmo dire che noi diventiamo ciò che ascoltiamo cerchiamo di capire meglio innanzitutto uno sguardo in generale al contesto siamo all'inizio del capitolo 13 di matteo che raccoglie alcune parabole quattro per le folle quattro per i discepoli che rivelano il modo con cui dio agisce nella storia e in noi nonostante il male presente e le tante resistenze tutto incamminato verso un compimento e una vittoria definitiva e ora entriamo nella parabola sullo sfondo abbiamo la calda immagine di un contadino che alla fine dell'estate secondo l'usanza orientale semina abbondantemente la semina infatti avveniva prima l'aratura dopo semina con generosità con larghezza su un terreno spesso riarso che si confondeva con la strada pieno di cespugli di pietre ma lui semina con larghezza certo che quel seme porterà frutto anche insperato laddove riuscirà ad attecchire di chi è figura questo seminatore del signore stesso il signore stesso per primo ci è venuto incontro e ci viene incontro con la sua generosità pensate dio si rivolge a tutti semina abbondantemente in tutti la sua parola bussa al cuore di tutti di tutti vuole la salvezza dio non è selettivo come spesso diventiamo noi questo sì questa no con questo ci provo a rivolgergli la parola con quell'altro no no dio è magnanimo è largo e grande d'animo semina ovunque e continua a bussare sempre al cuore di tutti a livello di significato la parabola ci dice che nonostante le fatiche le resistenze e di la strada gli uccelli i rovi i sassi il seme gettato dal seminatore porta frutto sovrabbondante laddove trova terra buona e dunque un caldo invito alla speranza e il tutto culmina con un chi ha orecchie ascolti gesù con questa parabola esorta ad aprirsi all'ascolto e ci dice ciò che accade nel cuore di chi la ascolta nel nostro cuore nel mio nel tuo il seme della sua parola in noi illumina e incontra tante resistenze ma parte cade anche nella terra buona del cuore e proprio lì porta frutti meravigliosi andiamo alla spiegazione della parabola abbiamo i quattro tipi di terreno noi solitamente pensiamo siano quattro tipi di persone in realtà sono quattro livelli di ascolto che noi convivono cioè quando noi ascoltiamo la parola ad esempio ascoltiamo la proclamazione del vangelo e l'omelia meditiamo il vangelo ascoltiamo una catechesi ascoltiamo delle parole sane giuste sante cosa succede che in parte la sentiamo ma non la intendiamo profondamente passa il maligno e porta via tutto in parte la sentiamo e la accogliamo con gioia ma l'incostanza e le pressioni interiori ed esterne impediscono che radichi in parte la lasciamo anche radicare e crescere ma poi resta soffocata dalle preoccupazioni e dall'ingano della ricchezza infine invece quell'ascolto fruttuoso accogliente della parola che fa sì che essa accada nella terra buona del cuore e produca un frutto inaspettato immenso ecco andando più nello specifico miei cari proviamo in semplicità a rivedere un momento i vari tipi di ascolto che mettiamo in atto si da conoscerci meglio ecco abbiamo innanzitutto un cuore stradale cioè quando uno sente la parola ma non comprende alcune cose magari non è immediata ma tante volte non la comprendiamo perché perché siamo distratti o perché si ascolta la parola come fosse un romanzo una fiaba oppure abbiamo un cuore chiuso nell'ovvietà il si dice così il si pensa cosa si è imbevuti della mentalità del mondo e ci si lascia scivolare addosso le cose che succede quando uno non la comprende cioè non la fa sua non la custodisce nel cuore anche quando non tutto è proprio chiaro arriva il maligno e ruba ecco il diavolo significa colui che separa il diavolo è colui che vuole allontanare la parola dal cuore il cuore da dio è interessante notare che gesù dice colui che ode la parola ma non la comprende viene il maligno e ruba costui e quello seminato sulla strada gesù identifica chi ascolta non con la strada o con i rovi le pietre ma direttamente con il seme e indirettamente con la sua accoglienza o meno ci sta dicendo che l'uomo alla fin fine si identifica con la parola che ascolta non con le difficoltà che le oppone cioè si può dire che uno diventa quell'accoglienza o meno che dà alla parola io divento ciò che ascolto quindi gesù ci fa partire dal prendere consapevolezza delle difficoltà che abbiamo nell'ascolto e dall'importanza di custodire in noi questa parola la sua parola perché porti noi frutto abbiamo quindi un cuore sassoso cioè quell'ascolto di colui che all'inizio accoglie con entusiasmo poi però che succede che non permette alla parola di radicarsi è incostante vive di belle esperienze ma poi finite le emozioni alle prime prove o fatiche tanti saluti arrivederci è importante ruminare meditare custodire quella parola aver contatto con sé e lavorare pazientemente su di sé santa teresa d'avila diceva che molti dopo aver vinto i primi nemici della vita interiore si perdono di coraggio e cessano ogni lotta smettendo di lottare quando magari sono solo a due passi da quella fontana di acqua viva quindi abbiamo il cuore spinoso in preda all'ansia per gli affetti e l'attrattiva della ricchezza a soffocare la parola miei cari sono le preoccupazioni quotidiane il cuore distratto appesantito preso da tante cose dalla paura di non avere abbastanza dal desiderio di aver di più dalle ansie che portiamo dentro assolutizzando problemi e difficoltà appesantiscono il nostro cuore che diventa incapace di avvertire ciò che vale per del gusto della parola e non riesce alla fine a trattenerla infine quell'ascolto accogliente fiducioso che fa sì che la parola penetri nella terra buona del cuore e porti un frutto enorme dove al 100 dove al 60 e dove al 30 ed è interessante proprio il versetto 23 la sua struttura quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende ecco questo termine indica sia un percepire un capire ma anche un tenere insieme e chi la ascolta e la custodisce questi da frutto e produce ora il 100 ora il 60 ora il 30 dunque chi ascolta e custodisce da dei frutti meravigliosi quei frutti dello spirito dei quali parlerà san paolo nella lettera ai galati amore gioia pace pazienza benevolenza bontà fedeltà mitezza dominio di sé e produce ora il 100 ora il 60 ora il 30 a seconda della disponibilità del cuore produce cioè una misura sovrabbondante qualcosa che sarebbe impossibile con le sole proprie forze c'è qui l'efficacia in noi delle parole di gesù della presenza di dio che colma la nostra vita e fa sì che portiamo frutti meravigliosi in conclusione miei cari chiediamo al signore che la sua parola trovi sempre più accoglienza in noi che illumini le nostre resistenze le sciolga affinché la nostra vita possa essere piena di frutti che il buon dio vi benedica a tutti pace e bene